Un grandissimo successo, la fiera di San Massimo che causa Covid era stata rimandata, il ritorno dei banchi circa 90 nelle vie del centro storico ieri ha segnato la ripresa in città degli eventi fieristici perché erano due anni che mancavano questi appuntamenti considerando anche che la fiera dell'Epifania, altro appuntamento tradizionale, era saltata. Tanti ambulanti provenienti dal resto della regione, da regioni limitrofe, soprattutto tanti aquilani e turisti che hanno visto la presenza del mercato come un piccolo grande segno di normalità. Con le istituzioni, con la prefettura, con il prefetto Cinzia Torrato e con il sindaco e l'assessore abbiamo concordato insieme a loro tutte le modalità per fare in modo che questo evento sia riuscito alla perfezione. La città ama questa fiera di San Massimo, è il padrone dell'Aquila, perciò è stato veramente un successo, può essere sdittata di una settimana come era prima calendaria data. Una fiera che ha avuto un successo inaspettato, seppur con banchi limitati, proprio per le normative Covid. È stato il primo evento fieristico in Abruzzo dopo la fine delle restrizioni, la FIVA ConfCommercio aveva organizzato tutto nei dettagli. L'associazione guidata da Alberto Docapretti sta già lavorando per la fiera della perdonanza il prossimo 29 agosto e poi per quella dell'Epifania a gennaio. È in corso intanto un confronto con il Comune per capire se ci sarà possibilità di organizzare dei mercatini più piccoli, artigionali, durante weekend e stivio nei cantieri dell'Immaginario, ad esempio. Sì, stiamo lavorando con l'amministrazione, con Raffaele Ragnale, l'assessore al commercio, per rifare un mercato in Piazza Duomo. Il sabato può essere anche la domenica, è un dei mercatini a tema alla Villa Comunale, può essere anche al Parco del Sole. L'amministrazione sta decidendo, sta vedendo come strutturarli. L'obiettivo degli ambulanti rimane il ritorno a Piazza Duomo, sua sede naturale, in modo fisso. Si lavora per questo, ma non accadrà prima dei lavori di restyling in piazza che potrebbero partire dopo l'estate. Stiamo lavorando che il mercato storico di oltre 750 anni ritorni nella sede originale, Piazza Duomo, e stiamo lavorando per vedere come ristrutturarlo, a parte la pavimentazione e tutto quello che si sta facendo in centro storico, anche i banchi, le attrezzature per mettere in questa piazza che adesso sarà completamente diversa di come era prima del sisma.